I dati sul mercato del lavoro, quelli sulla produzione industriale del mese di giugno, sono al centro delle pubblicazioni Istat di questa settimana, una settimana che si è conclusa con la diffusione della consueta nota mensile. Numeri, soprattutto analisi, dalle quali apprendiamo che nei prossimi mesi si attendono possibili flessioni dell'attività manifatturiera accompagnati da una moderata vivacità nei servizi, l'aumento del disavanzo commerciale, la diffusione dell'inflazione, il netto peggioramento della fiducia dei consumatori possono generare rischi al ribasso per l'evoluzione congiunturale. Dopo il sorprendente risultato sul PILA nel secondo trimestre, lo ricordiamo come una crescita dell'1% in termini congiunturali, il reddito nazionale ha raggiunto livelli superiori a quelli precedenti alla grande crisi finanziaria e dunque superiori anche a quelli del 2011. In giugno l'indice della produzione industriale ha segnato un ulteriore calo congiunturale, meno 2,1%, dopo quello registrato in maggio meno 1,1%, ma nel trimestre la produzione ha comunque mostrato un miglioramento di 1,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente e questo è un dato coerente con la variazione del PIL di cui si diceva. Il mercato del lavoro sempre in giugno ha registrato un aumento dell'occupazione rispetto alla mese precedente di 86.000 unità, trainato dalla componente dei dipendenti permanenti più 116.000 e ha prodotto questa variazione un miglioramento del tasso di occupazione che ha raggiunto il valore del 60,1%, un massimo che non si registrava dal 1977.